8 luglio, notizie per una nuova Milano. Oggi è evidente che l'Italia è spaccata in due. E la sorpresa è che la parte d'Italia che sta andando molto più veloce non è quella che ci aspettiamo. Oggi ci sono due grandi notizie vedendo le prime pagine dei giornali, a seconda che si guardino le prime pagine dei giornali del centro-nord e quelle invece del sud. Facciamo il primo passo, guardiamo i giornali del nord. Tutti titolano in prima pagina sulla questione Fontana. Vi dico alcuni titoli, perché anche in questo caso c'è un'Italia spaccata in due. Ad esempio, dal punto di vista ideologico, ci sono da un lato i giornali di area governativa nazionale, già molto duri, definitivi. Il fatto titola in prima pagina su Fontana, seconda indagine in Svizzera. Già subito il prossimo passo di attacco al governatore. Il messaggero è ancora più netto. Titola in prima pagina, Fontanamente ora dimissioni. Quindi, da un lato la sinistra e i giornali del centro-sinistra, quelli più schierati. Dall'altra parte c'è invece il titolo più pro Fontana, quello di Libero. Titola in prima pagina, Libero. Fontana, accusato perché è ricco. Come al solito, in questo paese sembra impossibile analizzare una questione senza di subito dividersi da ultras da stadio. Altri titoli sono comunque simili. Corriere di Milano titola Camice, veleni, le verità di Fontana. In prima pagina invece Corriere è Fontana in aula, la verità verrà galla, non tollero dubbi sulla mia integrità. La Repubblica oggi riporta un'intervista invece a Fontana, una pagina di intervista in cui Fontana si difende. La questione è questa. Il vero stallo, e se posso dire da cittadino lombardo, io sinceramente me ne frego della parte politica totalmente. Noi come il progetto Milano Città-Stato, tanti ci etichettano, ma noi in realtà, chi ci conosce, che invito tutti a partecipare, di ogni tipo, ci sono persone che hanno le idee più disparate, però riusciamo a essere molto uniti perché mettiamo al di sopra di quelle che possono essere idee di partito, ideologie, eccetera, al di sopra di tutto l'idea che Milano deve essere forte e per diventare forte deve avere poteri e risorse simili a quelle delle altre città del mondo. Non ci interessa poi che questo venga vista per una Milano migliore o di volta in volta come cosa simile a quelli di partiti di sinistra o partiti di destra, non ce ne frega nulla. Quindi da cittadino lombardo dico, io sono molto preoccupato perché in realtà anche questa cosa succederà? Attacchi giudiziari, come al solito l'unica opposizione che viene fatta a chi governa, non sono mai i cittadini o i corpi intermedi, ma è sempre la magistratura. In questo caso rischiamo uno stallo per il fatto che poi tra l'altro Fontana, come di recente molti politici, è avvocato e quindi si può contestargli di tutto tranne della capacità di difesa, nel senso che sembra abbastanza ferrato nella capacità di difendersi anche quando tutte le prove sembrano contro di lui. Lo stallo cos'è? Lo stallo che se si riduce tutto, invece per un personaggio politico, lo si riduce in tipo giudiziario, cosa significa? Che i tempi giudiziari sono molto lunghi. Probabilmente, vedendo se analizziamo le carte, non si tratta di cose, per i precedenti drammatici che abbiamo, non si tratta di cose così tragiche dal punto di vista giudiziario, poi magari sarà condannato. Però il rischio vero è che si rimanga in stallo giudiziario, con alla fine magari verrà addirittura assolto, come spesso è successo, per cui grideranno vendetta a questi, diranno abbiamo dimostrato che aveva ragione, e quindi tutto finirà in uno stallo. Perché in realtà da cittadino lombardo ci sono tre grandi, tra virgolette, non reati, non solo reati perché sono giudiziari, ma sono gravissime responsabilità che ha Fontana nei confronti dei suoi cittadini che dovrebbe rappresentare. Perché la vera questione è che Fontana ha smesso, la prima questione è l'autonomia, il popolo lombardo come il popolo veneto hanno votato per l'autonomia. Fontana non solo ha smesso di lottare concretamente, non ha ottenuto questo risultato, non solo non ha ottenuto, ha anche spento il dibattito, ma non solo ha spento il dibattito, perché ha dimostrato lui stesso di essere un centralista, perché quando tu sei per l'autonomia verso Roma, ma a livello regionale tu mantieni un totale centralismo, perché non ha consentito nessuno sviluppo di un'autonomia territoriale, stile svizzera, che poteva fare una riforma subito, era nelle sue mani, non l'ha fatto, e a questo punto ci sta prendendo in giro su sta cosa. Allora dillo che sei centralista sempre, perché se sei autonomista tu devi essere anche nella tua regione, invece non ha fatto niente, sappiamo che è sempre stato contro lui, che tra l'altro è anche il sindaco di Milano, contro l'autonomia di Milano, Milano è l'unica città che quelli che dovrebbero fare il loro interesse lottano contro il fatto che questa città possa avere più risorse e poteri, una cosa mai vista nel mondo. Comunque questa è la prima cosa. La seconda cosa è, lui deve difendere i cittadini lombardi, e se vedete quello che è successo in questi mesi, a parte le responsabilità che sono evidenti che comunque c'è stato un po' di pressapochismo, però lasciamo stare quello. Quando ci sono stati gli attacchi, ce ne sono stati di frequente nei confronti della Lombardia, dei cittadini lombardi, lui è sempre spostato dicendo che gli attacchi della Lombardia sono attacchi contro di noi, contro la regione. E questo ha spostato in che cosa, a parte aumentare ancora di più il bersaglio sui cittadini, poi un grande uomo di responsabilità doveva dire, cari italiani, scendiamo, i cittadini lombardi sono persone fantastiche, eccezionali, noi come potere stiamo venendo attaccati per questi motivi, non che usi i cittadini lombardi per farti scudo di fronte agli attacchi. E la terza cosa che adesso è ancora più d'attualità e più evidente se vedete le prime pagine oggi dei giornali, di tutti i giornali, è dov'è la Lombardia, dov'è Milano nella questione recovery funds. Cioè, ripeto, le tappe. Crisi sanitaria che colpisce soprattutto la Lombardia. In nome di questa crisi sanitaria, Conte, il governo italiano, si gioca la sua partita, addirittura nell'ultimo discorso per ottenere il finanziamento dai partner europei, tira in ballo il fatto del non umiliateci, pensate ai nostri morti, i quali sono avvenuti per metà in Lombardia, da tutto questo, come vedremo, la Lombardia è stata zitta. Cioè, in questo momento, adesso poi vedremo invece come si stanno comportando i giornali del sud. Mentre i giornali del nord, i politici, gli esponenti, intellettuali e altro, ne avete sentito uno che stia dicendo oh, fermi un attimo. Questa è, sono recovery funds anche per rilanciare. La Lombardia è stata massacrata, non solo sanitariamente, ma anche dal resto. Pensiamo un po' a qualcosa come spendere questi soldi anche qui sul territorio, perché non ne ho sentito mezzo parlare di questo. E soprattutto, dov'è il governatore? Dovrebbe dire, per primo, sediamoci attorno a un tavolo e inseriamo nei progetti recovery funds anche progetti per la Lombardia. L'avete sentito? Io no, come nessun altro. Perché il vero tema è questo, la Lombardia che è sempre stato il traino nei decenni, il traino del paese, ha sempre guidato il paese, è sempre stata l'avanguardia, la novità, sempre ha giocato d'attacco perché è sempre stata quella più vicina al resto d'Europa. Adesso, e secondo me questo è il vero crimine politico di Fontana e non solo di lui, di tutta la leadership regionale, per la prima volta la Lombardia è in difesa, giochi in difesa. Siamo tutti in difesa, arroccati, tutti Fontana e i suoi, sono tutti attorno a lui per dire che non è vero che ha commesso crimini e tutto il gioco è lì. Così come sull'emergenza sanitaria tutto il gioco è difendere le proprie scelte, tutta una difesa. Così come su qualunque altro aspetto, adesso ormai, la Lombardia è in difesa, la posizione è difendersi, posizione di retroguardia, a dire che non è vero che siamo gli untori dell'Italia, non è vero che adesso stiamo andando a contagiare tutti quanti e non è vero che siamo governati da una persona che ha commesso reati e così via, non è vero che siamo incompetenti, è tutto un non è vero, ma non si può governare a Lombardia con un non è vero, in una situazione in cui è drammatica. Anche oggi c'è la notizia a Milano che c'è stato un calo del 50% di imprese create dalle donne rispetto all'anno scorso. Mezzo, dimezzate, così come un terzo delle aziende del territorio sono a rischio di chiusura, perché per la politica del non è vero, della difesa, della difesa oltranza, questa è la vera responsabilità, non solo di Fontana, ma di tutti i giornali, di tutti i media e di tutti gli intellettuali, oltre che i leader locali, che in nome di difendere Fontana o attaccare Fontana stanno massacrando il futuro della Lombardia, perché i giochi sono altri. E quali sono i giochi? Vi dico soltanto un po' i titoli dei giornali, voi prendete i giornali simbolo del Sud, sono tutti compatti, vi dico alcuni titoli, Messaggero, Sud, tutte prime pagine, Messaggero, Sud, meno tasse per ripartire, il governo in pressing, sull'Unione Europea. Gazzetta del Mezzogiorno, fondo di prima pagina, rilancio del Sud, Stato e regioni non tradiscano l'ultima speranza. Il mattino, prima pagina del mattino, recovery fund, Conte avvisa i ministri, due punti, priorità al Sud. E addirittura non solo sono compatti tutti i giornali del Sud, ma sono compatti tutti i ministri del governo italiano. Già ho detto Conte, Conte dice i suoi priorità al Sud, ma non basta. Stessa giornata, anche oggi Boccia, tutti i giorni Boccia, anche oggi intervista alla Repubblica, titolo dell'intervista rilanciare il Sud è prioritario. Tra parentesi Boccia non è il ministro del Sud, Boccia è il ministro delle autonomie. Ma non solo, la cosa più bella, se la vogliamo, è l'intervista al messaggero del vice ministro Castelli per l'economia, quella che ha fatto un'uscita scomposta e magari poteva fare meglio in questo momento quella del dire sostanzialmente i ristoratori hanno difficoltà, cambiano mestiere. A parte quella uscita che è sicuramente stata strumentalizzata, però un politico non può fare quell'uscita con quella leggerezza che possa essere così strumentalizzata, soprattutto in questo momento. Allora noi ci attendiamo un'intervista in cui chiarisce questo, si mette dalla parte di chi sta perdendo lavoro, parla, visto che il vice ministro dell'economia italiana parla di un problema italiano, invece titolo dell'intervista al messaggero di oggi del vice ministro del governo italiano, una fiscalità di vantaggio per il Sud con le risorse in arrivo da Bruxelles. Una fiscalità di vantaggio per il Sud con le risorse in arrivo da Bruxelles. Vi rendete conto che questo non può essere un caso perché tutti i media del Sud, mentre quelli del Nord fanno la guerra fontana di qua e di là, tutti i media del Sud da giorni pubblicano in prima pagina tutti dare i soldi al Sud. Le fondi dei recovery funds vadano al Sud, chi se ne frega su come, ma devono andare al Sud. Ieri c'era sulla Repubblica il nostro rappresentante, la BCE, che dichiarava che bisogna dare i soldi al Sud per fare una fiscalità agevolata. Tutti uniti, Conte che dice ai ministri, tutti quanti voi, tutti i ministri, la battaglia è dare risorse al Sud. Tutti i giornali, ministri, politici, tutte forze politiche, tutti uniti, al Nord, zitti, silenzio. Vogliamo dire, chi sono altri due esponenti? L'unico che almeno dice qualcosa, non nomina la parola Sud sui fondi, oggi c'è l'intervista a Bonomi, Presidente di Confindustria, sul Corriere, che se non altro gli si chiede come devono essere spesi riforme, vi assicure, è l'unico che oggi nei giornali non usa la parola Sud o Nord, non usa la parola della destinazione geografica, che in un paese normale, dopo una pandemia che ha sicuramente colpito di più il Nord, ma in generale ha colpito economicamente tutto il paese, non ci si può sognare oggi di parlare di destinazione geografica. Allora lui cosa dice? Bisogna intervenire su fischi e burocrazia di tutta Italia, perché anche in questo caso i ministri che parlano del Sud sono gli stessi ministri che poi dicono ci vuole centralismo, non bisogna dare autonomie, figurarsi, figurarsi alla regione, figurarsi ancora di più a Milano, però bisogna dare le risorse al Sud. Sala, altro leader politico, purtroppo sta trasmettendo col fatto che hanno ancora deciso che non è che sta facendo grandi salti di gioia, c'è anche questa indecisione da milanese, dico sembra che fare il sindaco sia l'ultimo dei ripieghi, cioè che sta aspettando fino all'ultimo, c'è chi dice perché vuole vedere se gli arrivano altre offerte, ma sembra che sta svilendo anche la carica del sindaco, uno dovrebbe, se sei il sindaco, subito dirlo, se lo fai, lo fai, cioè è un onore per questa città, non può essere il ripiego e soprattutto dove sei sala, di qualcosa, almeno tu su sta roba, invece di fare le polemiche scomposte sulla Sardegna e su ste robe, di che è uno scandalo che tutti parlino del Sud e non si inseriscano dentro il piano, che tra l'altro ancora non è stato fatto, il piano per i recovery funds, anche dei progetti prioritari per Milano e per la regione, che è stata più colpita dal Covid. Questa secondo me è la situazione assurda, noi faremo appunto, vi ho già detto, noi ci muoveremo le prossime settimane e vi inviteremo a individuare i progetti prioritari per Milano da chiedere che vengano inseriti, perché se no la contropartita sarà un'autonomia, B, ogni anno noi diamo, non come dice Bonomi che di fatto il saldo dei recovery fund è di 25 miliardi per l'Italia, siamo in una regione che le dà 56 miliardi ogni anno a babbo morto senza chiedere niente, ok, diremo non volete inserire i progetti, da oggi queste risorse rimangono sul territorio fin tanto che non possiamo rilanciarci come eravamo prima. Vi aspetto domani per un intervento di filosofia politica del mercoledì.